eccoci qua ragazzi buongiorno a tutti bentornati sul canale buon inizio settimana buon lunedì ovviamente a noi da inizio settembre da inizio campionato anzi molti dei nostri lunedì sono sempre gli stessi con questa cera notti pensierose un napoli che non vince una partita siamo stati dei polli anche ieri 1 a 1 finita cagliari napoli però visto che addetti stampa addetti ai lavori ne stanno dicendo di tutti i colori forse senza andare a vedere qualche numero andare a vedere perché per come sparano comunque a caso su colpevoli del gol eccetera eccetera io sono qui per fare chiarezza dire la mia fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti ci saranno statistiche screenshot per quanto riguarda il gol che abbiamo preso perché c'è da fare chiarezza sul gol preso assolutamente sì e poi ovviamente una hit map per come abbiamo attaccato e faremo le pagelle quindi restate attaccati a questo video fino alla fine condivisione massima un bel like e iscrivetevi al canale per chi è nuovo ovviamente attivando la campanella delle notifiche forza napoli prima di tutto e cominciamo queste le statistiche della partita 0 73 1 0 6 l'xg in favore del napoli possesso palla in favore del napoli 9 tiri e 4 nello specchio per il napoli 8 e 3 nello specchio per il cagliari la cosa però dove mi volevo soffermare e sono i passaggi effettuati e la media tra quelli effettuati e quelli riusciti 5 89 effettuati 4 89 riusciti al di là di quelli del genoa però vediamo che ci mancano 100 passaggi quando la media di passaggi sbagliati è sempre stata intorno ai 70 voi mi direte sì ma 30 passaggi possono essere anche pochi va bene non sono quelli che vanno a determinare poi il risultato sì non vanno a determinare il risultato ma 30 passaggi determinano l'andazzo di un match non sono pochi assolutamente e dobbiamo appunto fare mia colpa sulla precisione del passaggio statistica sulla quale poi il napoli anche in questo campionato diciamo ha sempre fatto bene nel campionato scorso non ne parlammo proprio però mancano questi 30 passaggi fatti bene e l'abbiamo visto ieri disordine il napoli non riusciva a uscire dal basso perdevamo il pallone al terzo passaggio perché non ne riusciamo a fare tre di fila e quindi era che questa la statistica che volevo un attimo analizzare con voi perché se siamo bassi siamo lenti in ripartenza palle tutte sul piede e mai nello spazio non c'è un movimento delle mezzali non c'è praticamente niente se sbagliamo pure i passaggi a due metri allora è meglio che chiudiamo chiudiamo e raggiungiamo questi 40 punti mandiamo una lettera federazione a dire ok noi la quota se la quota salvezza l'abbiamo raggiunta non giochiamo più perché facciamo brutte figure sarebbe il caso un'altra soluzione sarebbe fare fare fino a fine giugno a fine maggio perché poi finisce il 29 maggio se non era il campionato dalle 10 di mattina alle 13 sala video tattica colloqui con i calciatori studiare la partita dalle 14 alle 17 allenamento sul campo per ciò che si è studiato la mattina non si può fare tutti i giorni si potrebbe fare per uno che prende 3 milioni all'anno oppure volete fare solo le tre ore di allenamento e poi andate a casa molto semplice giornata lavorativa dalla mattina fino alle 17 casa famiglia la sera e la mattina si ricomincia perché è l'unica soluzione altra che il ritiro punitivo no non c'è nessun ritiro castle volturno 10 di mattina fino alle 17 tutti i santi giorni quelli che poi non si gioca perché se la mettiamo poi a livello di orari lavorativi il napoli ad esempio oggi è castle volturno domani lo stesso mercoledì si gioca già la seduta mattutina di un'eventuale tattica non la fai non le fai comunque le giornate lunghe a castle volturno quando vai a giocare la partita quindi sarebbero sacrifici da fare quattro giorni alla settimana credo che guadagnando 3 milioni all'anno il minimo si potrebbe anche fare rimettersi in riga perché cari ragazzi io sono arrivato quasi per ultimo a dirlo per quanto riguarda la stampa il web stesso però la squadra alle sue grandi responsabilità ci arriviamo perché guardiamo anche i frame del gol preso e vi faccio vedere il perché per come queste sono i momenti di attacco ovviamente che vedete sicuramente superiori al napoli ma sono momenti che il napoli passa in attacco ma non c'è un indice di pericolosità sono solo diciamo statistiche per quanto riguarda la territorialità ecco dello sviluppo del gioco andiamo avanti la hit map ci dice che noi centralmente perché praticamente le zone che sono più verdi sono quelle con meno densità durante l'arco della partita noi centralmente non abbiamo fatto praticamente niente perché non abbiamo fatto niente perché dobbiamo rimettere raspatori esterno per me perché praticamente raspatori non facendo il lavoro dell'esterno con la sulla posizione del terzino la catena di testa che funziona tende sempre ad accentarsi cosa succede quando si accentra raspatori si porta l'uomo dall'esterno se lo porta al centro dove milita osimene che è già marcato dai due centrali si porta anche il terzo raspatori e ovviamente fai densità anche di calciatori avversari che ti stanno marcando il portatore di valle in questo caso il nostro jack perdiamo il pallone e non imbuchiamo mai perché raspatori può fare l'esterno può fare la mezzala può fare il trequartissimo può fare la prima punta è arrivata maradona io l'ho detto ieri nella live ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito live stupenda ieri io non sapevo che a 35 milioni avevamo preso maradona caro calzona per piacere ci hanno fatto già incazzare i due prima di te per cambi per decisioni strane per calciatori fuori ruolo non cominciamo un'altra volta lo stesso motivo perché altrimenti questa barca non è che non la portiamo non la portiamo arriva la affondiamo proprio la affondiamo proprio quindi cerchiamo di fare le cose come si deve e per bene questa è la hit map dove comunque la partita si è si è svolta per il napoli soprattutto in mediana l'abbiamo visto noi siamo stati poco pericolosi nel primo tempo solo il tiro di raspatori non ti puoi permettere squadra con con lo scudetto al petto è una cosa che non dovrebbe proprio esistere è vero che il cagliari in casa loro partita difficile campo difficile tu eri quello con lo scudetto e loro erano la neopromossa invece in campo soprattutto nel primo tempo si erano invertiti ruoli quindi abbiamo fatto una bella figura in merda scusatemi il francesismo ma stamattina ci vuole una bellissima figura fatta in terra di sardegna andiamo a vedere il gollo perché c'è chi dice si meretta poteva uscire sì l'errore di questo l'errore di tizio di gai e di sempronio allora io vi dico la mia anche ovviamente avendo avuto colloqui con personaggi amici che comunque ancora masticano campo calpestano il terreno di gioco quindi c'è familiarità con determinate dinamiche di gioco e partiamo a ritroso perché partiamo a ritroso ci arrivo allora questa è la foto dove vedete il pallone cerchiato mi mi scuso per forse la qualità delle foto però meglio così non devi dare qualche qualche copyright strano youtube eccetera comunque quello il pallone one jesus guarda così aspettando che scenda non lo so qualcuno dal cielo e dia una mano ad un pallone che non deve rimbalzare a terra leggibile e dire poco quel pallone non stiamo parlando di un assist di modric di esterno che mette il calciatore palla e porta no è una cosa leggibilissima comunque dormiamo su questa su questa situazione e andiamo a ritroso perché guardate dove la linea difensiva del napoli il pallone in questo caso non lo vedete perché la fotografia è sfocata ma ve lo dico io il pallone sta quasi perpendicolare a dove sta correndo l'arbitro pairetto cioè praticamente quasi in testa l'arbitro pairetto questa è a metà al lancio diciamo e invece quando viene effettuato il lancio guardate sempre ve la rimetto guardate dove sta la difensiva questo invece è il diciamo il passaggio come il calciatore del cagliari impatta il pallone noi già non vediamo qui la nostra linea di difesa che era già arretrata prima che partisse l'azione ecco il problema principale poi si vanno a dare le colpe a one jesus si possono dare le colpe al mancato intervento eccetera però c'è un prima c'è questo noi stavamo facendo questo ping pong a centrocampo la palla parte dalla metà campo del cagliari e la nostra linea di difesa dove noi abbiamo l'ultimo uomo lì che se non erro dovrebbe esserlo bottica ma abbiamo olivera one jesus raccamani tutti quanti lontanissimi e infatti arriva questa foto che ritorna e vediamo che la linea di difesa era già al ridosso dell'area di rigore allora quello che dico io li metto questa perché io sono incazzatissimo quello che dico io si sa che il cagliari è una squadra che fino al 96esimo ti rompe le scatole si sa per certo che nel calcio quando ci sono gli ultimi 60 secondi finali qualsiasi squadra butta un pallone avanti così alla rinfusa qualcosa può sempre uscire un rimballo eccetera eccetera da scudettata da squadra che comunque militare in champions league da tanto tempo eccetera eccetera questa situazione la dovevi saper leggere la dovevi saper leggere poi andiamo a fare il il gioco delle colpe one jesus e meret eccetera eccetera qua meret c'entra ben poco perché se la linea di difesa è arretrata sul diciamo al limite dell'area di rigore certamente meret non può andare a farlo stopper davanti alla linea dei difensori e poi ne hai quattro non non è detto che devi uscire per forza i quattro calciatori che possono rispedire la palla al mittento un pallone poi che arriva a campanile ma senza forza non era un lancio proprio teso che tu dici mi ha accolto in in controtempo no e noi siamo andati a zonzo per il campo con un pallone al 95esimo che è diventato pericolosissimo luvumbo fa l'uno a un e vabbè ce lo prendiamo e ne prendiamo atto ne prendiamo atto ci sono delle parole di calzona non vado ad analizzare tutta l'intervista perché non è proprio il caso calzona da me verrà giudicato dopo la partita di ritorno con il barcellona gli do questi 20 giorni di tempo per vedere se riesce a trovare quadra chimica chiamatela come volete ma non credo che al meglio mi auguro che che ci riesca ma impresa quasi impossibile due i passaggi che volevo condividere con voi dell'intervista problema mentale principalmente questo fisicamente la squadra sta bene l'ha dimostrato anche oggi infatti per chilometri percorsi siamo a 108 7 in meno della partita scorsa ma per meriti del cagliari e per una partita che si è chiusa a centrocampo non vedo giocatori con crampi il problema è solo mentale dobbiamo restare in partita e fare più movimento abbiamo iniziato ad essere più squadra ma lo facciamo solo a tratti questo mi fa pensare che il problema è mentale richiamo di preparazione non è la condizione fisica il problema va mentale sappiamo che il cagliari alza la palla lì dobbiamo migliorare se accettiamo la partita sporca non lo sappiamo fare non abbiamo la qualità per tenere la palla alta giochiamo ogni tre giorni e da parte nostra non c'è stato nessun input a livello fisico se accettiamo la partita sporca non lo sappiamo fare questo si tratta di aver mestiere si tratta di stare sul pezzo tanto è vero che olivera si becca una munizione per far fugiare su un fallo laterale e perdere tempo simen da navigato e figli e bucchino come si dice a napoli cerca di comunque far passare qualche secondo ogni qual volta si trovava qualche situazione un fallo una palla comunque lontana cercava sempre di tirare acqua al proprio mulino perché sapeva benissimo che non importava come dovevi far tre punti oggi a cagliari gli unici due che stavano sul pezzo dal napoli chiedi olivera e osimet il resto per me hanno fatto le pagelle per me sono tutti insufficenti tutti quanti tutti dici sì ma raspatore ha fatto l'assist sì sì solo l'assist ha fatto raspatore poi basta e allora se ti devi beccare ti devi prendere una sufficienza per un assist e poi hai fatto 60 minuti di niente a me non sta bene tanto è vero che arriviamo e facciamo anche le pagelle pronte pronte stamattina sono carichissimo mi auguro che questo video venga condiviso un bel like che fa sempre bene e ce lo meritiamo pure ogni tanto sia io che voi ieri nella live perché ieri voi meritavate tantissimi like per tutti i commenti della live per ciò che è stato poi nel contenuto nell'immediato post partita e complimenti ancora pagelle 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 non le trovo dove le ho messe dove le ho messe dove le ho messe qui eccole qua allora calzona quattro e mezzo altro che sei queste sono le pagelle non lo so di chischis napoli quelle là fammi andare a rivedere mi sembra che chischis napoli gli abbia dato sei io gli do quattro e mezzo a calzona perché non ti puoi presentare cura spadori esterno l'abbiamo già visto da settembre e non è cosa non esiste non esiste il doppio cambio fatto quando è entrato è entrato hostigard per mazzocchi quando avevi un centrale in difficoltà che era vanjesus poi può darsi che mazzocchi abbia chiesto il cambio per che sta stanco può essere però non lo so ci ha capito ben poco anche con i campi hostigard per mazzocchi osi per simeone ci può stare lo scempio arriva quando si toglie raspatori per l'instrom e caius per zielis ma col barcellona hai cambiato la partita quando è entrato l'instrom con traore eccetera eccetera ma perché non metti traore e l'instrom al posto di quale zielischi nella normale natura delle cose perché io vorrei una spiegazione ma non c'è logica in quello che fa il napoli quest'anno né in campo e né dalla pagina quindi quattro e mezzo anche se è la prima uscita da virgolette ufficiale perché quella col bassa è arrivata ventiquattro ore prima calzone quattro e mezzo basta meretto sufficienza meretto sul gol non ci sono colpe assolutamente possiamo dire sì non richiama la difesa non esce eccetera eccetera sì è un portiere con quelle caratteristiche quindi senza che le stiamo sempre ad analizzare che l'è meretto non è che dall'oggi al domani cambiano le caratteristiche di un portiere è quello ci ci sono portieri così ci sono invece portieri che carisma comandano la difesa vogliono uscire eccetera eccetera solo che l'abbiamo analizzato ieri in live per le caratteristiche di meretto se il napoli vuole uscire dal basso e vuole fare un determinato tipo di gioco devi cambiare portiere devi prenderne uno con caratteristiche più vicino a gollini e sul pezzo che comanda la difesa chiama le marcature è forte con i piedi perché ieri il napoli in tre occasioni da centrocampo poteva passare la palla a meretto per far salire il cagliari e cercare di sgretolare le linee avversarie per poter ripartire poi palla al piede e si creano gli spazi per poter contrattaccare non l'ha fatto perché non si fida dei piedi del portiere semplicemente e non è una bocciatura a meretto sono dati di fatto che voi li vogliate analizzare cara stampa che poi non lo dice quasi nessuno o meno one jesus 4 e mezzo rackmani 5 one jesus ovviamente sul gol purtroppo c'è una dormita però è un 4 e mezzo che si becca il calciatore ma va diviso con le scelte dell'allenatore e nel farlo giocare ogni tre giorni one jesus 33 anni 34 non lo so comunque vecchio vecchio per per ciò che si deve vedere in campo al giorno d'oggi hai giocato mercoledì una gran partita contro il barcellona e con quattro fottutissimi difensori che hai in rosa non ti puoi presentare oggi con one jesus a cagliari perché lo sai benissimo che non li reggi 90 minuti tanto è vero che ci è arrivato cortissimo d'ossigeno secondo me non l'ha visto nemmeno quel pallone arrivare ed è una cosa normalissima per un calciatore di quell'età e per un ragazzo che è arrivato a fare è arrivato per fare il quarto centrale a napoli non il titolare sta tirando la carretta da inizio campionato posti cardenatan dove sono caro calzona faccelo sapere e mettiamoli in campo cinque rackmani perché se cinque rackmani perché su quel gol annullato in fuorigioco c'è uno scempio di posizione di e nel battezzare l'azione che è un qualche cosa l'attaccante si chiamava la padula e non si chiamava Lewandowski quindi le giustificazioni ben poche cinque e mezzo a mazzocchi non ha inciso la fase offensiva anche se tanta corsa e tanto cuore però la sufficienza non la si raggiunge l'ho detto la sufficienza ce l'hanno solo Olivera e Osimè sei e mezzo ad Olivera perché ha dato tantissimo e di mestiere ha capito perfettamente la situazione anche prendendosi quella munizione dove normalmente io mi sarei arrabbiato per un cartellino giallo preso per la perdita di tempo ma in quel frangente della partita in quel momento dove dovevi far di tutto per portare questi tre punti eravamo sul finale ci sta e grande mestiere Zielischi cinque e mezzo ritorno su Zielischi e dico perché l'ho detto ieri in live che lo ricercavo se non erro a Vincenzo Martinesi non voglio andare errato e gli andavo a cercare la percentuale di passaggi riusciti Zielischi è con l'ottantanove per cento il calciatore che ha che ha concluso più passaggi del Napoli ma diciamo 20 80 20 per cento in avanti 80 per cento dal centrocampo e difesa non è ovviamente un non sto bocciando nessuno però è un dato di fatto se andiamo a vedere i numeri dei passaggi il Napoli ha i tre centrocampisti che toccano il pallone più di tutti con la schella addirittura ha toccato 30 palloni tutta la partita 30 31 anzi invece chi ha i maggiori tocchi di palla sono Juan Jesús, Strachmani, Anguissa e Zielischi addirittura con l'obotica sotto a questi quattro elementi cosa che deve già far pensare per quanto riguarda lo sviluppo della manovra eravamo arrivati a Zielischi l'obotica la sufficienza se la prende anche per per quel tiro sul finale che rasenta la rete di pochissimo fuori e dove io sono rimasto di stucco e la potevamo chiudere Anguissa molti l'hanno l'hanno trovato sufficiente per me non c'è niente di sufficiente nella prestazione di Anguissa di ieri 5 e mezzo 5 e mezzo o 5 5 sarebbe molto più indicato a Quara che praticamente l'avete visto io non l'ho visto nemmeno ieri sicuramente le attenuanti tutto quello che volete però le attenuanti fino a un certo punto a me da un calciatore di quella caratura o almeno da un calciatore della caratura o di tutti gli appellativi che gli abbiamo dato l'anno scorso e per la stagione fatta mi aspetto qualcosa in più Osimen 7 e 7 pure Olivera che gli ho dato 6 a me 7 dai tutte e due perché gli unici due che si sono dannati hanno dato l'anima sono stati sul pezzo Osimen è sempre pronto a buttarla dentro è sempre pronto a porgere un aiuto al compagno a scattare ripetutamente a cercare di sfaldare la difesa avversaria ed è l'unico è l'unico che lo fa l'unico raspatori sufficiente per gli altri quotidiani e tantissimi devo andare a rivedere un attimo le pagelle 6 e mezzo su tutto Napoli ma non lo so chi ha scritto questa pagella 6 e mezzo se non erro andiamo un attimo a vedere dovrebbe essere anche quella di del genio 6 e mezzo anche del genio comunque sufficiente dappertutto per me è un 5 e mezzo per tutto che hai fatto l'assist non esiste non esiste non esiste che tu vieni messo da esterno e va bene che non lo sai fare però l'abbiamo analizzata prima se tu tagli sempre verso l'interno e mazzocchi o anche chissà non scendono dietro le due spalle ti porti tutta la linea difensiva di quella parte il terzino la mezzala di là le porti tutte quante al ridosso della nostra punta centrale si crea una cozzaia di persone in quella zona del campo al ridosso diciamo della lunetta dell'area di rigore dove tu il pallone lo perdi perché non c'è un imbucato non c'è un movimento la palla è sempre sopra i piedi e non c'è nessun inserimento ed ecco che non segni non segni e né tantomeno tiri per 45 minuti c'è solo il tiro di raspatori e io non gli do 6 perché tu hai tirato per 45 minuti una volta verso la porta e mi fa tu un assist al 66esimo per il gol di osimè non esiste non esiste e prendere in giro gli addetti ai lavori l'allenatore del napoli gli stessi calciatori fatele come si deve le pagelle io non sono un esperto di pagelle assolutamente io do il mio voto anche a volte di pancia di cuore mettetela come volete però per ciò che abbiamo visto in campo per me non esiste non esiste una sufficienza detto questo gli entrati dalla panchina non voglio nemmeno nomi li nomino ma sufficienza politica si meone l'instam politana cagliuste ostica 6 ma è un 6 proprio solo scritto non esiste non esiste dare sufficienza a chi gioca 10 minuti un quarto d'ora mi deve cambiare la partita quel calciatore per avere la sufficienza non è stato così e quindi 6 politico ho rimandato a settembre chiamatela come volete questo era per questo cagliari napoli dove il napoli ha fatto la piccola e il cagliari invece sembrava la scudettata fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti vi auguro un buon inizio settimana ovviamente settimana lavorativa io sono qui di prima mattina a registrare voi vedrete il video durante la giornata e così posso andare anche io a trabacare come si dice in ho detto anche male scusate mi scusino tutti gli spagnoli è meglio che faccia la persona seria a fatica ecco nella lingua madre la lingua di partenope sempre forza napoli ragazzi ci vediamo nel prossimo video ciao